buongiorno a tutti sono alessandra andreano sales rep per se miss e oggi mi trovo in un campo di ottaviano ottaviano è la nostra nuova varietà di finocchio con un ciclo più precoce rispetto ad augusto infatti va bene per trapianti da fine agosto fino a tutto settembre e come potete notare il grumolo e tondo bianco con leggere striature verdastre e con un peso specifico molto elevato ma adesso passiamo la parola all'agricoltore che parlerà appunto di ottaviano e cosa ne pensa della varietà buongiorno sono giovanni pasquariello della provincia di foggia oggi siamo in un campo di ottaviano trapiantato il 15 di settembre e oggi il 9 di gennaio siamo già in raccolta il prodotto si è compostato molto bene tutta la crescita e nelle piogge di novembre con le alte temperature ha ritorno molto bene dal punto di vista fidosanitario oggi in raccolta si presenta molto uniforme è un colore bianco ed è molto compatto come potete vedere il prodotto porto dalla campagna essendo un prodotto molto compatto durante la lavorazione non subisce costi e mantiene tranquillamente il trasporto i 4-5 toni anche per l'esportazione arrivando al cliente in una maniera eccellente grazie 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 grazie